Loro sono stati soprattutto bravi con la partenza di Benzema in Arabia a prendere un giocatore come Bellingham che non è nello stesso posto, che gioca più dietro le due punte, però che sappiamo che è un giocatore forte. E poi non è che voglio solo pensare a un giocatore, perché guarda loro sono stati anche molto bravi a prendere un attaccante come José Lu, che voglio dire che loro hanno giocatori forti tecnicamente, però è anche una squadra potentissima e alta, anche pericolosa sui calci piazzati, quindi è una squadra completa. La squadra che ci andrebbe bene è quella che batteremo, però non so che squadra metterà ovviamente Carlo Ancelotti, è uno scherzo per dire che ancora una volta basta concentrarsi su di noi.